Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, oggi sono da Silvia Camper e guardate quanto, 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 quanto materiale c'è. Insomma, io poi sono curioso, sapete, quindi adesso incominciamo questa maratona e vi porto a vedere un po' di camperini nuovi in pronta consegna. Finalmente sta cominciando ad arrivare di nuovo il materiale nuovo, su base Ducato e su base Ford. Facciamo troppo spoiler, state lì. Si chiama Fon Vendome Horizon H307. Si tratta di un furgonato con tetto alto 2,88 m lungo appena 5,99 m in un elegante color ghiaccio e soprattutto in edizione limitata. La sua particolarità, oltre all'eleganza, è anche la completezza di quelle che sono le dotazioni a bordo. Grazie. Grazie. Come potete notare, abbassando il letto, sotto internet risulta ancora esserci un po' di spazio comodo, magari per guardarsi un film, per lavorare, per leggersi un libro. E nel contempo la persona sopra può riposare tranquillamente. Vi ho detto che è 2,88 m di altezza, ecco perché è così generoso negli spazi interni in altezza. Alle spalle della dinette troviamo la cucina, con il suo piano di ribalta che vi ho fatto vedere prima, cucina che è completa di due fuochi e lavandino con miscelatore abbattibile. Sotto la cucina troviamo invece i cassetti, lo stivaggio per i piccoli accessori della cucina e il frigo a compressore. Molto comodo perché raffredda veramente molto bene, anche in temperature calde. E poi in coda abbiamo la parte della camera da letto. Il matrimoniale, il secondo matrimoniale all'interno di questo compatto van, con l'armadio per i capi appesi, un armadio per ulteriori maglie e un piccolo armadio per la biancheria intima. A seguire c'è il bagno, bagno che ha il lavello nascosto sotto a un punto, come vedete, del ripiano, cosicché è tutto beneficio della doccia che risulta essere molto comoda. Una volta terminata la doccia basta sfilare il lavandino e si ritiene di nuovo il bagno comodo. Parliamo di un veicolo compatto adatto anche alla famiglia. Un ultimo sguardo in coda. Sotto al letto abbiamo ovviamente il garage con un piano divisorio, un piccolo stipetto e sulla destra invece, chiuso in maniera differente rispetto agli stipetti abituali, ma con delle chiusure di sicurezza a sgancio c'è il vano della bombola. Ricordate che se siete amici di Cristiano, venite da Silvia Camper, avete l'1% di sconto sull'acquisto di un camper nuovo. Quindi vuol dire che se il camper costa 70.000 euro avete 700 euro di sconto. Ovviamente Massimiliano vi farà prima pulire il camper, lavare i bagni e poi dopo vi dirà se siete amici di Cristiano, allora avrete diritto allo sconto. Insomma, un benvenuto. Nei prossimi video troverete altri prodotti di Silvia Camper perché io resto qua tutto il giorno in quanto veramente ci sono tantissimi camper.